Pop Sofia 2015 ancora a Tolentino, al Castello dell'Arancia, date contenuti di questo evento. Si continua la sfida di Pop Sofia al Castello dell'Arancia, siamo arrivati alla terza edizione e si rafforza la sfida culturale che ormai sta ricevendo anche parecchie imitazioni in Italia, cioè analizzare criticamente e riflettere sul fenomeno tutto umano dell'umorismo. Tre giornate piene di eventi, dalle 17 fino a notte inoltrata, che arricchiscono questo meraviglioso edificio nel comune di Tolentino. Dal pomeriggio, dicevo, le rassegne di Pop Sofia legate alla filosofia dei cartoni animati, alla filosofia delle serie TV e alla contaminazione tra filosofie e linguaggi diversi, come la fotografia con un grande interprete della Polaroid come Maurizio Galimberti o il fumetto con la presenza del fumettista internazionale Luca Boschi. E la sera invece alle 21.30 nel cortile del Castello gli spettacoli di Pop Sofia. Questa è la vera sfida culturale di quest'anno, delle produzioni inedite che uniscono la riflessione filosofica con la musica dal vivo, con le performance incredibili del nostro gruppo musicale L'Ensemble Pop Sound, con le letture di Chiara Pietroni, la regia di Marco Bragaia, insomma dei veri e propri spettacoli filosofici che uniscono i fenomeni pop della cultura italiana, come la filosofia del caffè, la filosofia della bicicletta, contaminandole con il pensiero critico e soprattutto quella caratteristica italiana della velata ironia che coinvolge tutti i fenomeni. Speriamo quest'anno di superarci ulteriormente, di portare al Castello un pubblico proveniente da tutta Italia per una sfida culturale che si conferma a Tolentino come capitale dell'umorismo. Una cosa su cui riflettere, l'umorismo che è un elemento tutto umano, ogni anno concede sempre nuovi spazi di riflessione. Sì, sicuramente l'umorismo tra l'altro cambia linguaggio nel contemporaneo. E davvero una novità dell'edizione 2015 è proprio questa, cercare l'umorismo laddove l'arte non l'ha ancora cercato, per esempio sul web. Ci sarà una rassegna tutta dedicata ai fenomeni nati su YouTube con i grandi collettivi come il Terzo Segreto di Satira, The Pills, The Juggal, che riescono attraverso piccole clip diffuse sul web a interpretare in modo nuovo, in modo contemporaneo, in modo divertente l'umorismo che coinvolge la società italiana di oggi. Quindi tentare anche di reinventare l'umorismo e di leggerlo con il linguaggio del presente.